Il primo giorno di DPCM, da stasera ristoranti alla prova, caos e trasporti, i nuovi orari sparigliano l'organizzazione della TPL. Assegno unico per le famiglie, under 35 assunti a zero, contribuzione, sono alcune delle novità della legge di bilancio varata dal governo. Alle 21 torna su Eliver e Start Brescia, tra gli ospiti il duo Calchic Le e Adriana Albertini. Quella di domani è una partita importante per dare continuità alle prestazioni, così il mister Diego Lopez nella conferenza Precchievo Brescia. BCC Agro Bresciano è la banca che da oltre 120 anni è al fianco di imprese e famiglie. BCC Agro Bresciano sostiene il territorio con più di 20 filiali al servizio di soci e clienti. BCC Agro Bresciano, vicino a te, ora più che mai. BCC Agro Bresciano, vicino a te, ora più che mai. BCC Agro Bresciano, vicino a te, ora più che mai. Telegiornale che apriamo parlando ovviamente del nuovo DPCM varato nella serata di ieri dal governo e firmato dal presidente Giuseppe Conte. Tante le misure contenute, in buona parte quelle che già erano previste nell'ordinanza regionale di Attilio Fontana precedente di alcuni giorni. Guardiamo un po' nel dettaglio quello che cambia. Nel governo vince la linea più morbida, nessuno lockdown e nessun coprifuoco almeno per ora. Ristoranti aperti fino alle 24 ma al tavolo saranno consentite al massimo 6 persone e ogni ristorante dovrà esporre il numero massimo di persone consentite nel locale secondo le norme anti-covid in relazione alla metratura. L'asporto è consentito fino alle 24, la consegna a domicilio sempre non ha limitazioni. I bar potranno rimanere aperti fino alle 24 ma dalle 18 potranno effettuare solo servizio al tavolo. Il governo ha dato 7 giorni di tempo alle palestre per adeguarsi fedelmente ai protocolli anti-covid. In molti casi, ha detto il premier in conferenza stampa, ci dicono che sono scrupolosamente applicati. In altri no, da qui l'avviso, con 7 giorni di anticipo per una corretta applicazione. Se questo non avverrà, la prossima settimana il governo potrebbe chiuderle. La scuola deve proseguire in presenza e non viene chiusa. Il DPCM prevede l'introduzione di maggiore flessibilità negli orari, dalle 9 del mattino a turni pomeridiani. Possibilità di didattica a distanza per licei e scuole secondarie. Dovranno chiudere alle 21 le sale gioco scommesse e bingo. Ciò non riguarda la nostra regione, dove sono già state chiuse con l'ultima ordinanza di Fontana. Stop a sagre e fiere locali, convegni e congressi. Via libera invece a manifestazioni fieristiche e manifestazioni internazionali. Il governo delega ai sindaci la possibilità di chiudere strade o piazze dalle 21 e attuare il coprifuoco per garantire, dove lo riterranno opportuno, il rispetto delle norme anticovide. Il punto non ha mancato di far discutere con una forte presa di posizione da parte del presidente del Lanci, che ha parlato di scarica barile. E come avete sentito nei nostri titoli, una misura di questo DPCM, in particolare l'ingresso a scuola posticipato alle ore 9 del mattino, avrebbe suscitato le critiche dell'Agenzia TPL del trasporto pubblico locale di Brescia, che si è scagliata appunto contro questa norma, dicendo che sarebbe addirittura inutile e controproducente, perché costringerebbe l'Agenzia a riorganizzare completamente gli orari, le tratte del trasporto pubblico riferito alle scuole. Dopo le novità introdotte con il nuovo DPCM dal presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, l'Agenzia del trasporto pubblico locale di Brescia chiede una modifica delle disposizioni contenute nel decreto. Secondo TPL, infatti, l'ingresso degli studenti nelle scuole alle ore 9 sarebbe una scelta del tutto sbagliata e inapplicabile, perché metterebbe in crisi l'equilibrio raggiunto fra i trasporti e la scuola. Da un lato, l'apertura delle scuole verrebbe a coincidere con l'apertura degli uffici pubblici e privati e delle varie attività commerciali, fa sapere l'Agenzia, e dall'altro inefficace, perché in ambito di trasporto pubblico e straurbano la concentrazione degli spostamenti è riconducibile sostanzialmente agli spostamenti dei soli studenti. Il nuovo orario di ingresso comporterebbe un radicale cambiamento anche per il sistema di organizzazione del trasporto bresciano, che prevede nell'ora di ingresso l'impiego di 750 pullman per circa 900 corse. Proseguendo con la tematica Covid, andiamo sul nostro sito internet per dare uno sguardo ai dati aggiornati sulla diffusione del contagio arrivati appena poco fa nella nostra redazione e prontamente pubblicati. Eccoli qua sul sito internet livebrescia.tv. Sono sei morti in regione Lombardia nelle ultime 24 ore, 1.687 positivi e 71 nuovi ricoveri. 39 i casi a Brescia però con meno tamponi. Infatti, come vediamo dall'infografica di regione Lombardia, come siamo abituati da ormai diversi mesi dopo la domenica, i tamponi calano notevolmente, sono la metà rispetto alle cifre. 30.000 a cui siamo abituati durante la settimana. Sono stati infatti 14.577 i tamponi processati nell'ultima giornata, che come detto hanno portato alla luce 1.687 nuovi casi positivi, di cui 111 considerati deboli e 12 a seguito di test sireologico. Il dato di Brescia, più 39, è tra l'altro uno dei più bassi della nostra regione. Vediamo Milano con un più 814, Monzebrianza con un più 265, Ovarese con un più 206. Dati che però ovviamente, come detto, sono influiti dal basso numero di tamponi, perché se vediamo la percentuale fra tamponi processati e tamponi positivi è parecchio alta, aumentata anche rispetto alla giornata di ieri e infatti si attesta sopra 10%, 11,5% di tamponi positivi su tutti quelli processati. Ieri era ferma al 9,6. Diamo uno sguardo anche ai ricoveri, che sono più 3 in terapie intensive, salgono così a 113 in tutta la regione, e un più 71, un numero ancora abbastanza alto per i ricoveri non in terapia intensiva, che salgono a 1136 in tutta la Lombardia. Come detto, sono 6 morti, 17.084 dall'inizio della pandemia. TS Brescia ha fatto sapere, giusto pochi minuti fa, che nessuno di questi è riferibile alla nostra provincia o alla nostra città. Proseguiamo in tema Covid, ma parlando di legge di bilancio. Infatti, dopo le misure del DPCM di ieri sera, sono state illustrate anche le misure della legge di bilancio, firmata ovviamente dal ministro Gualtieri. Una misura di bilancio che tiene conto pesantemente di quella che è la situazione Covid con numerosi provvedimenti. Vediamoli nel dettaglio. Il Governo ha approvato la legge di bilancio 2021 ed è una manovra che, alla luce della situazione odierna, si sviluppa principalmente in chiave Covid. Sono 4 miliardi stanziati per la sanità, con un miliardo aggiuntivo per il Fondo Sanitario Nazionale. Nasce poi un fondo per l'acquisto di vaccini e altre esigenze legate all'emergenza coronavirus per un valore di 400 milioni in due anni. A partire da luglio 2021 arriva l'assegno unico in sostituzione delle detrazioni per figli a carico, esteso anche da autonomi e incapienti. 3 miliardi il prossimo anno, ma è una cifra che sarà probabilmente destinata a aumentare successivamente. Viene prorogata la cassa integrazione Covid con il conseguente blocco dei licenziamenti per chi ne usufruisce. Per una spinta all'occupazione vengono azzerati per tre anni i contributi per le assunzioni degli under 35 operanti in Italia. Per i settori più colpiti, inoltre, è stato istituito un fondo da 4 miliardi. Pronti 350 milioni da utilizzare nei primi mesi del 2021 per il trasporto pubblico locale colpito dalle misure di contenimento del virus con particolare attenzione ai trasporti scolastici. Scuola che vedrà stanziati un miliardo e mezzo per l'edilizia e un miliardo e due per le assunzioni. È previsto poi un contributo di 500 milioni di euro l'anno per il diritto allo studio e 500 milioni di euro l'anno per il settore universitario. 2,4 miliardi vanno invece all'edilizia universitaria e ai progetti di ricerca. 600 milioni di euro saranno destinati al settore della cultura e dello spettacolo. Ancora coronavirus, ma questa volta declinato sulla cronaca e ci spostiamo in Val Camonica dove i carabinieri sono dovuti intervenire in alcuni locali dove i gestori non indossavano mascherine e non rilevavano nemmeno la temperatura ai dipendenti. Quattro gestori di bar ammultati per non aver utilizzato loro e i loro dipendenti la mascherina. Multe anche perché non era stata rilevata e registrata la temperatura nei confronti dei lavoratori. È accaduto nel fine settimana in Val Camonica ad Arfo Boario Terme, Pianconio e Piancamuno. I carabinieri della compagnia di Breno hanno svolto un servizio di controllo straordinario nel territorio che ha interessato l'area della media e bassa Val Camonica. I militari del radiomobile hanno effettuato controlli mirati a verificare il rispetto delle limitazioni imposte dal DPCM in materia di emergenza sanitaria connessa al Covid-19 e richiamate dall'ordinanza della Regione Lombardia. Le violazioni saranno segnalate alla Prefettura di Brescia. Un violento schianto nella notte fra sabato e domenica a Chiari. Quattro ragazzi su un'auto sono andati a scontrarsi contro un albero. Le cause sono ancora da capire. Gli inquirenti sono a lavoro ma purtroppo uno di loro non ce l'ha fatta. Sono stati ricoverati in gravi condizioni in ospedale due dei quattro giovani coinvolti in un gravissimo incidente stradale. Inutile la corsa in ospedale per uno di loro che purtroppo non ce l'ha fatta. Tutti fra i 18 e i 20 anni si trovavano a bordo di un'auto che per cause ancora tutte da accertare è finita violentemente contro un albero. Due di loro hanno riportato ferite giudicate dai sanitari gravissime mentre gli altri due se la sono cavata senza ferite serie. È accaduto nella notte di sabato attorno alle 2 a Chiari in via Lunghe. Immediatamente sono scattati i soccorsi. Sul posto sono arrivate ambulanze, lì soccorso, vigili del fuoco inizia stradale per i rilievi. L'avevamo annunciato domenica sarebbero state interrotte le ricerche dell'81 di Villanuova Gino Pilenghi scomparso ormai sabato 10 ottobre. Non è stato ritrovato quindi le ricerche si sono effettivamente fermate. Questa mattina un vertice in prefettura. Scopriremo nei prossimi giorni se si proverà ancora a cercare l'anziano villanuvese. Purtroppo dopo 8 giorni di ricerche con decine e decine di soccorritori sul campo ancora nessuna traccia di Gino Pilenghi. L'ottantotenne residente a Villanuova Solclisi non ha fatto più rientro a casa dopo averla lasciata nel pomeriggio di sabato 10 ottobre. L'allarme era stato lanciato dal figlio Claudio e subito si era messa in moto la macchina delle ricerche con protezione civile vigili del fuoco soccorso alpino e carabinieri. In prima linea anche il primo cittadino villanuvese che aveva messo a disposizione dei soccorritori le strutture da adibire a centro operativo. Come da programma però le ricerche ad ampio spettro si sono fermate domenica. Lunedì mattina il vertice in prefettura per fare il punto sulla situazione e stabilire il da farsi. Ultima pagina e parliamo di meteo infatti ci aspettano alcuni giorni di bel tempo le temperature si alzeranno nuovamente per la media stagionale e si tratta dell'alta pressione che viene chiamata in questo periodo ottobrata vediamo di cosa si tratta con gli amici di Trevi Meteo. La ottobrata che interesserà tutta Italia in questo avvio di settimana nei prossimi giorni con temperature in aumento alta pressione subotropicale dei disturbi solo al nord ovest con piogge più vicini che interesseranno quasi esclusivamente la Liguria però insomma da giovedì qualcosina in arrivo anche per Lombardia e Piemonte qui tanta variabilità nubi irregolari alternate a qualche schiarita. Bello sole altrove con temperature che sulle due isole maggiori raggiungeranno anche i 22-24 gradi ma guardate anche sulla parte adriatica qualche punta fino a 22-23 gradi. Per quanto riguarda i cambiamenti probabilmente nel fine settimana si abbasserà il flusso oceanico dal nord Europa e quindi l'alta pressione ancora su parte del centro-sud mentre delle piogge avanzeranno al nord e sull'alto versante tirrenico. Ne riparleremo perché comunque potrebbe essere un impulso instabile che domenica raggiungerà il centro-sud in maniera molto rapida tutti i dettagli come sempre scaricando l'app di Trebi Meteo. E questa sera come vi avevo annunciato anche nell'edizione giorno del nostro telegiornale Torna Restart Torna alle 21 per scoprire qualcosa di più sugli ospiti e su quali saranno i temi di questa nuova puntata ci colleghiamo con il nostro direttore Paolo Bollani Ci sei? Sì buonasera siamo pronti per la puntata di stasera di Restart Brescia ed è molto molto bresciana innanzitutto perché avremo ospite un artista bresciana che ha realizzato delle ceramiche e delle installazioni non solo nel Bresciano ma con mostra a Milano a Parigi e quindi sarò felicissimo di avere ospite Adriana Albertini che sarà con noi stasera e poi visto che parliamo di molto bresciani ci sono due personaggi che sono brescianissimi ormai li conosciamo così Roberto Capo ed Enrico Fappani saranno ospiti per raccontarci i loro spifferi bresciani e non solo cercheremo di capire anche chi sono loro al di là di questi personaggi che insomma si sono costruiti vi aspetto a partire dalle 21 questa sera qui su Live ovviamente in tv web e social perché saremo anche in diretta in contemporanea in social a più tardi grazie direttore quindi appuntamento imperdibile questa sera a partire dalle 21 ovviamente su Live Brescia TV ora un'altra bella notizia infatti è tornata a Brescia dopo un lungo restauro la vittoria alata vediamo il suo arrivo al Capitolium il primo passo informale ma sicuramente fondamentale per l'attesissimo ritorno a Brescia del suo simbolo la vittoria alata nella giornata di sabato infatti la preziosa statua è ritornata dopo il lungo restauro eseguito a Firenze e ha preso posto nella sua destinazione finale al Capitolium in molti nonostante non si trattasse di un vero e proprio evento hanno voluto presenziare un arrivo da star con tutte le attenzioni del caso e misure di sicurezza dopo questo primo traguardo si inaugura idealmente il cammino che nel prossimo mese di novembre vedrà una serie di iniziative per dare un caldo bentornato al manufatto che da semplice bellissima statua si è trasformato in un vero e proprio marchio identitario di un'intera comunità ora una breve pausa e poi apriamo la nostra pagina sportiva sicuramente ricca sicuramente interessante anche perché è già vigilia per il Brescia Calcio a fra poco sanificare e sterilizzare tutti i vostri ambienti da oggi è diventato un gioco da ragazzi con Apollo è la sola forza del vapore una buona sera anche agli amici sportivi di E-Live come vi avevo preannunciato è già vigilia per il Brescia Calcio non c'è stato tempo per festeggiare il 3-0 contro il Lecce che è già l'ora di tornare in campo infatti domani sera alle 21 il Brescia va a Verona ad affrontare il Chievo è la parola chiave detta da Diego Lombo Lopez in conferenza stampa è continuità credo che la partita domani sia una partita molto importante per dare continuità soprattutto alla prestazione bisogna cercare di trovare questa continuità nelle prestazioni che poi noi tutti siamo convinti che attraverso le prestazioni vengono anche i risultati perciò penso che sia importante per questo motivo noi abbiamo fatto questa partita sabato quindi c'è stato il tempo di recuperare abbiamo lavorato già ieri oggi con tutti i ragazzi stanno quasi tutti bene quindi ragioneremo sempre non solo questa volta se non sempre una partita alla volta sarà una una vera partita dove ogni tersino dove i nostri tersini diciamo avranno a che fare con i due strati del Chievo che nel loro sistema credo che il forte sia sulle fasce quindi penso che avranno anche una partita dove dovranno essere attenti in fase di non possesso poi cercare di far male anche in fase di fase offensiva quindi penso che un po' lì sia la partita prima di parlare di basket ovviamente vi ricordo che quando scende in campo il Brescia scende in campo anche live con diretta stadio quindi domani vi aspetta Fabio Pettenò con tutta la sua squadra per commentare Chievo Verona Brescia a calcio sperando che arrivi una seconda vittoria ora appunto parliamo di pallacanestro infatti la partita di ieri della Germania è finita 75 a 63 al pala 2A una partita contro Trieste una vittoria importante la seconda vittoria consecutiva in campionato una partita che sembrava indirizzata ampiamente già nel primo quarto chiuso sul 29 a 9 dalla Germani ha visto una Trieste che non ha mollato mai se non dopo il fischio finale i friulani con un terzo quarto all'arrembaggio sono riusciti a riportarsi anche sul meno 3 ma poi Brescia ha ripreso il pallino del gioco e ha messo la gara in cassaforte il primo quarto è stato totalmente a senso unico con la Germani che in campo ha fatto quel che voleva Trieste ha faticato terribilmente nella costruzione di tiri in fase offensiva e ha chiuso quindi la prima parte di gioco segnando solo 9 punti nel secondo quarto poi la partita è diventata equilibrata per poi subire una nuova accelerata nel terzo quarto questa volta è stata a Trieste infilare un parziale positivo vincendo il terzo periodo di gioco per 21 a 8 nell'ultima frazione però la Germani è riuscita a fermare l'emorragia e a tornare in controllo della partita seconda vittoria consecutiva quindi per i ragazzi di coach Vincenzo Esposito che si sono mossi molto bene anche in fase difensiva ottima percentuale dal campo dei padroni di casa che chiudono col 54.3% mentre dall'arco hanno fatto più fatica i migliori per Brescia sono stati Andrew Crawford con 19 punti Christian Barnes con 17 Kenny Sherry con 14 Luca Vitali invece ha chiuso con soli due punti ma la sua è stata una partita di grande sostanza ritagliandosi sempre di più il ruolo di leader all'interno del gruppo insieme agli altri veterani Esordio Amaro invece per il campionato dell'Atlanti de Pallavolo Brescia che in una trasferta davvero dura a Taranto purtroppo ha perso 3-0 quindi prestazione comunque da non dimenticare spunti importanti per il futuro E Amaro ha la prima partita della stagione in Serie A2 per l'Atlanti de Pallavolo Brescia che esce sconfitta dal campo della Prisma Taranto accreditata come la principale favorita alla promozione in Superlega la squadra dei Zambonardi lotta con orgoglio nel primo e nel terzo set sprecando anche due set point i tre punti vanno a Taranto che dimostra tutto il suo valore l'Atlanti de Brescia lotta nel primo e soprattutto nel terzo parziale arrivando anche al set point ma cede alla grande favorita per la promozione traguardo importante per Alberto Cisolla che in questa partita raggiunge i 5.000 punti segnati in carriera all'inizio sembravamo un po' arrugginiti e abbiamo concesso troppi punti agli avversari ha commentato l'ex nazionale nel finale invece ci siamo sciolti e abbiamo giocato alla pari con Taranto dobbiamo ancora migliorare in molti aspetti e cercare di essere più cinici quando abbiamo occasioni a nostro favore domenica 25 al San Filippo l'esordio in casa contro Lago Negro ore 17 e questa era l'ultima notizia per il nostro telegiornale di questa sera io vi ricordo che tutte le notizie sono in continuo aggiornamento sul nostro sito internet livebrescia.tv dove oltre alle notizie eccole qua potete trovare anche il nostro canale 16197 in streaming in questo piccolo box espandibile a tutta pagina e visibile anche da mobile dove potete anche attraverso questi banner iscrivervi ai nostri canali Telegram e livebrescia News e livebrescia Sport e ricevere in questo modo tutte le notizie in tempo reale sul vostro telefono cellulare senza alcuna fatica è il modo più facile è il modo più veloce io vi ringrazio per averci seguito è tutto per questa edizione vi ricordo ovviamente l'appuntamento di questa sera alle ore 21 torna a Restart Brescia per raccontare Brescia e i bresciani con il nostro direttore Paolo Bollani e ovviamente tanti ospiti ancora un ringraziamento una buona serata a tutti voi e a presto puoi rivedere questa edizione del telegiornale nella sezione e-live play del nostro sito internet puoi ascoltarla in versione podcast su Spotify Apple Podcast Spreaker e Google Podcast e Google Podcast il nostro sito itu Grazie a tutti.